La chiesa di Turro, a Podenzano, in provincia di Piacenza, è stata restaurata esternamente. A questo importante intervento ha contribuito il colorificio Boschi, che ha fornito i prodotti della ditta New Lack a base di calce per la tinteggiatura delle pareti. Per la parte della lattoneria arrugginita, invece, è stato utilizzato lo smalto Lack Zinc IP Myox, che garantisce una lunga durata nel tempo. I lavori sono stati eseguiti da Dino Molinari, artigiano e restauratore, specializzato in interventi su edifici storici.